Non si trova facilmente pace dalle parti di Selva Piana. Terminato un problema ne inizia subito un altro. Ci riferiamo ai casi di Marino e Iuliano. Proprio nei giorni scorsi il difensore Daniele Marino ha trovato finalmente una ricomposizione con la società Rosso Blu. Lo stesso giocatore attraverso alcune terapie mirate aveva cercato di accelerare il recupero fisico nelle scorse settimane. Marino è di fatto a disposizione anche se la sua condizione fisica è abbastanza approssimativa. Si confida comunque in un cellere ritorno al pari del resto del gruppo. Per Iuliano invece nessun tipo di conciliazione. Dai fatti, cioè dall'impiego del portiere ad Aprilia, sembrava ricucita la frattura con il Campobasso. L'accordo però ancora non esiste. Conoscendo altresì la verve del presidente Capone, non ci meraviglieremmo se decidessi una nuova esclusione per l'estremo difensore campano, che pure sarebbe attualmente molto utile alla causa di Mbimbo. Il Campobasso lavora per preparare la trasferta toscana di Gavorrano. La vittoria inizia a essere un ricordo abbastanza lontano per il Rosso Blu. L'ultimo e unico successo risale a 40 giorni fa, cioè all'esordio contro l'Interreggio. C'è da sbloccare una situazione di congelamento psicologico dovuto alla mancanza di reti in trasferta, cui segue conseguentemente lo zero nel tabellino dei punti fatti. In Toscana non sarà disponibile il Colored Conate, per Livoriano si dovrebbe trattare del riacutizzarsi di un vecchio infortunio. Non possiamo esprimerci con ufficialità, ma per Conate potrebbero essere previsti dei tempi di smaltimento dell'infortunio anche abbastanza consistenti. Intanto Russotto, centrocampista tanto pubblicizzato nell'ambiente rosso-blu e accostato più volte al Campobasso, ha trovato un accordo con il Catanzaro di Cozza. I giocatori a disposizione di Mbimbo rimangono quelli attuali, nessuna integrazione, nessun miglioramento almeno per ora. Malgrado la necessità di apportare correttivi, sia evidente, continuano senza sosta i lavori sul manto erboso di Selvapiana, condotti dalla ditta Garden Motor di Barletta e finanziati solo ed esclusivamente dal presidente Capone. Le maestranze della ditta pugliese hanno distribuito sul terreno una sabbia particolare per favorire il drenaggio dello stesso. Tale procedura dovrebbe portare a un miglioramento nello sviluppo della radice dell'erba. I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo 21 giorno della partita interna del Campobasso contro l'Aquila.